Datemi un milione di voti e toglietemi un atomo di verità e io sarò perdente. Questa celebre frase di Aldo Moro che tra le altre cose è lo spunto da cui parte Marco da Milano per il suo meraviglioso libro che si intitola Un atomo di verità e nel quale dimostra, analisi tra l'altro con la quale io sono assolutamente d'accordo, dimostra come a partire dal caso Moro, a partire dal rapimento, dal sequestro e soprattutto dall'eliminazione dell'onorevole Moro dallo scenario politico italiano sia iniziata la fine, la morte della politica italiana. Ecco con questa frase, con questa frase sull'atomo di verità mi piaceva cominciare questa diretta, questa serie di dirette che ho intenzione di a partire da oggi di dedicare al caso Moro, perché? Perché proprio questa frase tra le tante che ci ha lasciato il Presidente Aldo Moro? Perché nel caso Moro che non è semplicemente un mistero della nostra storia, ma è il mistero per eccellenza, è la nostra Dallas, il nostro 11 settembre, è il mistero per eccellenza o meglio la somma di tutti i misteri, diciamo è come se tutti i misteri relativi alla storia più recente italiana si fossero dati appuntamento, avessero trovato il loro crocevia, il loro complimento, il loro compimento e la loro somma o la loro summa, lì in questi 55 giorni di sequestro in cui la storia d'Italia e di conseguenza anche la nostra storia è cambiata irrimediabilmente e per sempre. Per quanto mi riguarda al caso Moro ho dedicato anni di studi, ho dedicato anni di iniziative, scritti, progetti con i miei studenti e via dicendo, il che non mi autorizza, non ho la pretesa di definirmi un esperto, ma diciamo quantomeno io ho la convinzione di poter parlare sull'argomento con un minimo di cognizione di causa. Su questa base io diciamo a lungo progettato in testa in maniera diciamo più o meno astratta, più o meno concreta, ho avuto in testa l'idea di fare uno spettacolo in occasione del quarantennale del sequestro Moro, ovvero quindi nel 2018. Era, ripeto, stata un'idea che io ho caldeggiato a lungo per diversi anni, avevo molti appunti, molte piccole e grandi idee per costruire un monologo. Poi l'anno prima del quarantennale è successo che la seconda commissione parlamentare d'inchiesta ha finito i suoi lavori, ha finito i lavori sull'inchiesta sul caso Moro e ha ufficializzato delle verità a dir poco sconcertanti. Nel senso che la cosa più importante che ha fatto la seconda commissione parlamentare d'inchiesta è che ha reso ufficiali, ha reso verità provata quello che in realtà non è che ha scoperto la seconda commissione parlamentare d'inchiesta, la seconda commissione parlamentare d'inchiesta si è decisa finalmente, ovvero il mondo della politica italiana si è decisa a tirare fuori quelle prove e a dare l'ufficializzazione a ciò che in molti sapevano e sapevamo da 40 anni, quelle verità che però chi le diceva veniva puntualmente accusato di essere un visionario, un complottista, veniva accusato di dietrologia, insomma verità talmente sconvolgenti che io ho deciso di partire da lì, di partire da queste novità emerse dalla seconda commissione parlamentare d'inchiesta per costruire il mio spettacolo. Poi però mi sono fermato subito perché mentre lo scrivevo ho pensato ma roba del genere che fa letteralmente saltare sulla sedia, roba che di fatto finalmente dice che tutta quella gente che è stata accusata di essere complottista, visionaria, una volta che tutte queste verità vengono ufficializzate davvero per il quarantennale non si parlerà d'altro. Io mi aspettavo tra il marzo e il maggio del 2018 sinceramente un diluvio di speciali, ore e ore in televisione, interviste, chi più ne ha più ne metta, dove si parlasse proprio di questo, di ciò che questa benedetta seconda commissione parlamentare d'inchiesta aveva ufficializzato. Mi aspettavo anche nella mia estrema ingenuità, tutta una serie di scuse, mi aspettavo una serie di scuse per esempio appunto ai visionari di qui sopra, a partire non lo so, per esempio mi aspettavo le scuse a Leonardo Sciascia, il primo a subito nel 1978 con il suo fondamentale libro L'Affermoro ad avvicinarsi in maniera incredibile alla verità, perché la verità era tragicamente evidente, non la vedeva soltanto chi non la voleva vedere. Mi aspettavo le scuse per esempio il povero Pecorelli che probabilmente è stato assassinato anche per quanto aveva scoperto e per quanto aveva detto sul caso Moro. Pecorelli che di solito in Italia abbiamo questo vizio per cui la morte, soprattutto la morte tragica, riabilita anche i crimini peggiori, invece il povero Pecorelli brutalmente assassinato, hanno continuato a trattarlo e a definirlo qualcosa di poco più di un ciarlatano e insomma di conseguenza mi aspettavo soprattutto le scuse alla memoria di Pecorelli. Tutto questo non è accaduto niente, tutto questo non è accaduto nulla, non è accaduto niente di tutto ciò in maniera assolutamente a mio avviso sconvolgente per il quarantennale, nonostante il lavoro e la verità definitiva scritta dalla seconda commissione parlamentare di inchiesta, non da un giornalista d'inchiesta, un giornalista d'assalto, ma dalla stessa politica italiana, nonostante questo l'informazione in media ufficiale cosa hanno fatto? Hanno riproposto ancora una volta quella verità ufficiale, processuale, ma totalmente fasulla, punto per punto, totalmente fasulla, punto per punto, che ci propinano da 40 anni. Allora nel mio piccolo ho ripreso il mio progetto di spettacolo pensando che forse sarebbe stato importante parlarne, visto che l'informazione ufficiale non lo faceva, ma perché non lo faceva, perché non è stato fatto? Diciamo che ho sempre pensato, ma la prova definitiva l'ho avuta quando nel corso di un incontro ufficiale su Aldomoro alla fiera didacta, dove una sorta di festival delle innovazioni didattiche della scuola italiana che si tiene ogni anno in autunno a Firenze, ho posto questa questione proprio all'onorevole Beppe Fioroni, del Partito Democratico, ex Margherita, ex democrazia cristiana, ma soprattutto presidente di questa seconda commissione parlamentare d'inchiesta. In sostanza all'onorevole Fioroni ho rivolto la domanda, ho detto ma com'è possibile che la parte più illustre del Parlamento italiano, la parte più alta della politica italiana abbia certificato delle cose che fanno letteralmente saltare sulla sedia e l'informazione ufficiale non solo non ne dà notizia, ma la politica italiana non fa nulla affinché venga dato lo spazio che merita nell'informazione ufficiale. La risposta, o meglio la non risposta di Fioroni mi ha fatto capire che il silenzio sulla faccenda è nel pieno interesse ancora oggi anche di chi ha guidato la ricerca della verità, cioè quella politica che alla fine si è vista evidentemente costretta a certificare verità che non potevano più essere taciute, ha comunque ancora oggi l'interesse a proseguire quel patto del silenzio, perché nel caso Moro è accaduto questo, nel caso Moro è accaduto un drammatico e incredibile patto del silenzio tra tutte le componenti in causa, anzi tra moltissime componenti in causa talmente gigantesche, alcune che nemmeno ci immaginiamo, un patto del silenzio dove tutti ci hanno guadagnato qualcosa, un patto del silenzio che ha visto in concorso di colpa e in concorso di interesse tanto le Brigate Rosse quanto lo Stato, che ha visto in concorso tanto gli equilibri della guerra fredda e quindi la politica internazionale quanto i principali partiti di massa italiani. Un patto del silenzio che è consistito nella costruzione di una verità fasulla, che è stata poi la verità ufficiale, la verità del processo, che però è falsa punto per punto, una verità che brigatisti pentiti o dissociati oppure brigatisti cosiddetti irriducibili che però dopo 20-30 anni hanno comunque raccontato, si sono prestati a fornirci questa versione che come ho detto prima è totalmente fasulla, punto per punto. Il perché è molto chiaro, ripeto tutti ci hanno guadagnato qualcosa, la politica internazionale e ovviamente gli equilibri della guerra fredda, quindi tanto le potenze occidentali rappresentate dagli Stati Uniti quanto le potenze dell'est rappresentate dall'Unione Sovietica hanno guadagnato il mantenimento degli equilibri di cui l'Italia era un importantissimo e fondamentale ago della bilancia, lo Stato ha mantenuto la sua integrità e ha mantenuto i suoi equilibri interni, le Brigate Rosse hanno ottenuto nei singoli degli sconti di pena notevoli e in generale hanno guadagnato un'immagine vergine di rivoluzionari vergini e incontaminati e incorrotti da consegnare alla storia. I partiti hanno guadagnato ognuno qualcosa, ne è la prova quello che è stata la politica italiana degli anni 80, laddove anche il partito comunista pur rimanendo, pur tornando all'opposizione, ricordiamo che con Moro l'esperimento che si stava tentando era quello di portare il partito comunista nell'area di governo, quindi tentare il cosiddetto compromesso storico, ma la politica degli anni 80 vede una sorta di lottizzazione, di spartizione del potere, delle distribuzioni delle cariche pubbliche, della TV di Stato, degli enti pubblici in maniera quasi chirurgica, in maniera a dir poco geometrica e simmetrica, in particolar modo tra i tre principali partiti, ovvero la democrazia cristiana, il partito socialista e il partito comunista, si pensi soltanto alla distribuzione delle tre reti RAI. Ecco, questa spartizione ne avviene attraverso il patto del silenzio firmato, tacitamente firmato sul cadavere dell'onorevole Moro. Allora, basti pensare, poi entriamo magari nel merito a vedere quanto sia importante, quando sia granitico questo patto del silenzio riguardo il caso Moro, è sufficiente pensare al caso Battisti, il caso del terrorista Battisti estradato dal Brasile e riportato in carcere in Italia. Pensate a quanto martellamento mediatico c'è stato nei mesi dell'estradizione, ma anche negli anni precedenti, quasi come se l'estradizione e la carcerazione di Battisti fosse la soluzione a una storia controversa e contraddittoria e drammaticissima come quella degli anni di Piombo, quasi come se estradando Battisti potessimo scrivere una parola di giustizia nel caso Moro. E questo ha fatto l'informazione, questo ha stato il martellamento di una certa politica, di una certa informazione relativamente al caso Battisti, quando in realtà Battisti con la soluzione agli anni di Piombo e con il caso Moro non c'entra assolutamente niente. Questo non è una soluzione a Battisti, sia chiaro, Battisti è un criminale e il suo posto è il carcere, punto. Ma Battisti prima di tutto ha un'indagine che abbiamo condotto, il 15% delle persone lo sa, ma Battisti non è un brigatista, Battisti non era un brigatista, non faceva parte delle Brigate Rosse prima di tutto, faceva parte di un'altra formazione armata minore e lo stesso Battisti è un terrorista minore, uno di quelli che faceva parte di quella zona grigia in cui si muoveva, in cui si contaminavano a vicenda violenza, delinquenza comune e terrorismo organizzato. Noi quindi abbiamo creduto a questa campagna martellante della stampa e della politica per cui la conquista di Battisti avrebbe lavato il sangue degli anni di Piombo, ma per esempio a nessuno di noi importa nulla perché nessuno ce lo dice del fatto che è attualmente latitante in Nicaragua e nessuno lo vuole estradare, nessuno pensa all'estradizione di Alessio Casimirri. Chi è Alessio Casimirri? Lo vedremo, oggi lo incontreremo, è un ex brigatista che ha avuto un ruolo determinante nell'agguato di Viafani, nell'agguato con cui è stato rapito il presidente Moro e uccisi 5 uomini della scorta. Quindi vedete, nel senso, questo patto del silenzio ha fatto sì che noi per esempio ci dimenticassimo assolutamente di Casimirri, che ancora è lì, in Nicaragua, ricordiamoci, è l'unico di tutti i nomi finora fatti dai processi e dalle verità ufficiali relativamente a Viafani a non aver scontato nemmeno un anno di carcere. Ora su questi presupposti è nato il mio spettacolo, che è per l'appunto un monologo, uno spettacolo, non ha alcuna dignità e pretesa di studio critico, ha il ritmo d'un racconto. Tuttavia si basa su quelle che sono esclusivamente i dati e le prove. E nasce proprio su questa base, sul voler contrapporre quella che è la verità fasulla che ci raccontano da 40 anni, con invece la realtà dei fatti emersa e ufficializzata dalla seconda commissione parlamentare d'inchiesta. Oltre agli atti della seconda commissione parlamentare, nel mio lavoro sono stati fondamentali alcuni testi, Sciascia l'ho già citato, è stata una specie di faro per tutti i miei studi sul caso Moro. I libri del professor Sergio Flamini, altro studioso che ha dato tantissimi contributi alla verità. E da ultimo fondamentali sono stati i saggi di quello che io ritengo essere il più grande giornalista d'inchiesta attualmente vivente in Italia, ovvero Paolo Cuchiarelli, autore di due libri fondamentali sul caso Moro, ovvero Morte di un presidente e L'ultima notte di Aldo Moro. Allora, il mio spettacolo si chiama Eseguendo la sentenza, le ultime 24 ore di Aldo Moro. si chiama Eseguendo la sentenza, riprendendo il gerundio più tragico della storia della Repubblica. Questa frase venne infatti usata dalle Brigate Rosse nel comunicato numero 9, l'ultimo, quello che anticipava e annunciava l'esecuzione di Aldo Moro e quindi la sua uccisione. Le ultime 24 ore perché la, come appunto seguendo l'inchiesta di Cuchiarelli, vediamo come proprio la cronistoria delle ultime 24 ore di Aldo Moro sia indispensabile per comprendere che cosa si è mosso dietro questa storia e per capire chi e perché ha veramente ucciso il presidente della democrazia cristiana. Io il mio spettacolo non lo cominciavo con qualcosa che non aveva nulla a che fare con il delitto Moro. Cominciavo raccontando, ispirandomi appunto a quello che fa Shasha nell'affermoro, iniziavo raccontando la trama di una novella di Edgar Allan Poe, ovvero La lettera rubata, dove un ministro francese, Monsieur De, riesce a rubare una lettera proprio sotto il naso del suo legittimo destinatario, che non è una lettera qualsiasi ma è una lettera dal contenuto altamente compromettente per tutta una serie di persone molto in vista nell'alta società francese, politici, nobile donne, imprenditori, artisti, attrici, e l'essere in possesso della lettera dà a questo ministro un immenso potere ricattatorio, mentre le persone coinvolte mobilitano mezzo mondo per ritrovare questa lettera, la forza di polizia, gli agenti privati, i servizi segreti, ma niente, la lettera non si trova, pare veramente sparita nel nulla. Fino a che, a tratto soprattutto dalla lauta ricompensa che viene messa a disposizione, non si mette a cercarla un mediocre investigatore privato, una mezza tacca, no, di nome Dupin, che tra lo stupore generale riesce a trovarla. Allora, dov'era? Molto semplice. Era nell'unico luogo in cui nessuno l'avrebbe mai cercata, quindi tutt'altro che nascosta, ma lì in bella mostra, nell'ufficio di Messier De, sopra proprio la scrivania dove lui ogni giorno riceveva decine e decine di persone. Ecco, in questo racconto straordinario, il grandissimo Edgar Allan Poe, ci vuole dimostrare che il modo migliore per nascondere qualcosa è non nasconderla affatto, ma lasciarla lì, in evidenza, davanti a tutti. Quel procedimento che si chiama invisibilità dell'evidenza, o se preferite, eccesso di evidenza. E giustamente, ora, uno si chiede cosa c'entra la lettera rubata, cosa c'entra l'eccesso di evidenza con Aldo Moro. In generale non c'entra nulla, ma in realtà c'entra proprio tutto e parecchio, perché il grande protagonista di tutta la vicenda Moro, del sequestro, dell'omicidio, di 40 anni di indagini e processi, è proprio lui l'eccesso di evidenza, vale a dire che la verità nessuno l'ha nascosta. Ce l'hanno lasciata lì, davanti agli occhi, in bella mostra, talmente davanti agli occhi che non l'abbiamo saputa vedere. Detto questo, il mio spettacolo segue le strade di questa storia, quindi questo è uno spettacolo che si divide in, eseguendo che sono le quattro strade più importanti della vicenda Moro, ovvero via Fani, appunto dove si consuma il sequestro dell'onorevole Moro, via Montalcini, la prigione dove si ritiene, dove per 40 anni ci hanno raccontato sia stato detenuto il presidente Moro, per tutti i 55 giorni, via Gradoli, via Cruciale, la via che è un po' la chiave per comprendere tutti quanti i misteri, e via Caetani, la via dove il cadavere di Moro viene ritrovato, viene fatto ritrovare all'interno del portabagai della tristemente celebre Renault Rossa. Allora, io quindi dedicherò al caso Moro quattro appuntamenti. Stasera, come potete vedere, come avevo già annunciato, parliamo di via Fani, l'anatomia di una strage. Allora, ho visto che qualcuno mi ha scritto per farmi delle domande, Chiara mi ha scritto per farmi delle domande, devo uscire dalla diretta. No, me le puoi fare anche qui, riesco a vederle senza bisogno che tu scriva su Messenger, questo vale per tutti. Ovviamente non vi risponderò in tempo reale e alle domande cercherò di rispondere a fine diretta. Allora, detto questo, cominciamo appunto a parlare di via Fani. Allora, che cos'è via Fani? Allora, molto semplicemente, via Fani è molto semplicemente la azione terroristica più importante e più gigantesca mai accaduta in territorio italiano in tempo di pace. E questa azione dura esattamente 3 minuti, dalle 9.02 alle 9.05 del 16 marzo del 1978. 3 minuti, 180 secondi e questo è il primo dato certo, inoppugnabile e incontestabile. 3 minuti. Allora, io vi chiedo di non dimenticarlo, di tenerlo a mente, di tenere a mente questi 3 minuti perché è un dato che ci aiuterà a capire molte cose nel corso di questo racconto. Allora, per quanto riguarda via Fani, la famosa versione ufficiale, quella appunto processuale, quella appunto costruita e che ci raccontano da 40 anni, è già in partenza, già nel momento in cui si inizia a costruirla, contiene qualcosa che la rende inattendibile, ma addirittura la rende inattendibile prima ancora ad ascoltarla, ovvero la dinamica che noi conosciamo, che ce l'hanno raccontata miliardi di volte, che l'abbiamo addirittura vista nelle ricostruzioni cinematografiche, nei documenti, che la rende inattendibile prima ancora di ascoltarla. Ovvero il fatto che questa dinamica che noi conosciamo a memoria, che ci hanno raccontato miliardi di volte, che abbiamo visto in tutte le ricostruzioni cinematografiche, documentaristiche, eccetera, eccetera, almeno a grandi linee, almeno nella sua ossatura, nel suo scheletro, è stata ricostruita sulle dichiarazioni che i pentiti, i primissimi pentiti delle Brigate Rosse, ovvero Peci e Savasta, rilasciarono nel corso del primo processo Moro. Allora, primo processo Moro che si conclude nel 1983 e siamo ad un'altezza cronologica in cui ancora le Brigate Rosse, pur decimate, pur in una situazione che è già senza via d'uscita, hanno ancora una compattezza più o meno granitica. Che cosa significa? Significa che le Brigate Rosse non sono ancora falcidiate dal fenomeno dei pentiti. Ok? Ma ce ne sono pochi tra questi Peci e Savasta, Peci e Savasta che parlano nel corso del primo processo Moro. Ecco, dov'è che la dinamica di Via Fani accennata da Peci e Savasta, però ricordiamolo, l'ossatura del racconto di Peci e Savasta è la base della dinamica di Via Fani, così come ce la racconta chiunque stato, Brigate Rosse, partiti da 40 anni, è che Peci e Savasta in Via Fani non c'erano. Non solo, non erano nemmeno presenti a Roma durante i 55 giorni del sequestro. Ora, come può essere ritenuta attendibile una ricostruzione fornita da due persone che non erano presenti sulla scena? Già quindi, in partenza, la dinamica di Via Fani risulta inattendibile, ripeto, prima ancora di ascoltarla. Ora, come dicevamo, il primo processo Moro si chiude nel 1983. Poi, qualche mese dopo, siamo nell'84, ecco che entrano in scena due personaggi fondamentali, ovvero i brigatisti, o meglio gli ex-brigatisti, Valerio Morucci e Adriana Faranda, che decidono di parlare. Decidono di parlare non come pentiti, ma come dissociati, vuol dire, è una cosa perversa la formula del dissociato, vuol dire che questi ex-terroristi racconteranno come sono andate le cose, ma senza fare nomi. Cioè, senza denunciare gli ex-compagni coinvolti nella storia. Quindi, Morucci, per esempio, ricostruirà la dinamica di Via Fani non facendo i nomi di chi c'era, ma numerando. Quindi, il numero uno era in posizione di vedetta, il numero due guidava una Fiat 127 bianca, e via dicendo. Ora, Morucci e la Faranda, a differenza di Piesce e Savasta, hanno un ruolo fondamentale per tutti i 55 giorni di sequestro. Innanzitutto, Morucci è presente anche in Via Fani, fa parte del presunto gruppo di fuoco, cioè dei quattro che si posizionano sul lato sinistro della macchina della scorta di Moro e della macchina del presidente, aprendo il fuoco. Ma di questo ne parleremo poi. Ma soprattutto, Morucci e la Faranda svolgono il ruolo di postini delle BR. Cioè, per 55 giorni loro hanno svolto il delicatissimo compito di consegnare e far ritrovare i comunicati delle BR e le numerose lettere scritte da Moro durante la prigionia. E se Piesce e Savasta danno il là alla ricostruzione della versione ufficiale, Morucci e la Faranda, soprattutto Valerio Morucci, la definiscono, fornendo dettagli e spiegazioni. Allora, prima di passare alle domande, anche qui ci sono già due cose che in partenza rendono la cosa un po' particolarmente scricchiolante. Da un lato la coincidenza, cioè si chiude il primo processo Moro, se ne esce con poca roba, con una ricostruzione appena accennata da due persone che non erano presenti sulla scena. Quindi per dare credito e per chiudere il prima possibile questa vicenda, si cerca di trovare in fretta e furia qualcuno disposto a parlare, disposto a firmare questo patto del silenzio e a costruire questa versione totalmente fasulla. Ecco che arrivano Morucci e la Faranda, due che incontestabilmente hanno avuto un ruolo importantissimo, quindi vengono ritenute dall'opinione pubblica delle fonti attendibili, ma addirittura per loro si inventa questa formula che non ha precedenti nella storia dell'antiterrorismo internazionale, quella dei dissociati, che non sono terroristi ma non sono nemmeno pentiti. Una cosa veramente, veramente singolare. Ma le menzogne della versione ufficiale sono ben altre. Allora, prima di tutto, la prima domanda a cui sono chiamati a rispondere i due è molto semplice. Perché le BR scelsero proprio Aldo Moro? Ecco, la loro risposta, che nessuno in sede processuale ha osato contraddire, è a dir poco paradossale. Stando al loro racconto, la scelta di Moro fu totalmente casuale, nel senso che le BR volevano un esponente di spicco della democrazia cristiana. Uno a caso, uno qualsiasi, tra Andreotti, Fanfani e Moro. E la scelta, stando a quanto dicono sia Morucci sia Faranda, cadde su Moro semplicemente perché era un obiettivo logisticamente, militarmente più semplice. Allora, anche se noi volessimo credere a quanto Morucci e la Faranda ci raccontano, questo contraddice totalmente l'immagine che le BR hanno sempre dato di se stesse, ovvero di un gruppo estremamente meticoloso e inflessibile dal punto di vista politico. Come si può anche solo pensare che l'operazione più importante, delicata e complessa della loro storia nasca da una scelta casuale e improvvisata. Ma soprattutto, in particolare, Morucci, e gli andranno dietro via via altri brigatisti fino ad arrivare alla voce più illustre delle Brigate Rosse, tra illustre tra virgolette, ovvero il capo delle BR al tempo del rapimento Moro, vale a dire Moretti, Mario Moretti. Ora, Morucci si preoccupa, ma in maniera continua, quasi ossessiva, di slegare la scelta di Moro dal compromesso storico, ovvero appunto quel progetto politico di cui stavamo parlando prima, che puntava a far entrare il PC nell'area di governo. Allora, secondo la versione ufficiale, dove anche qui nessuno in sede processuale ha usato smentire Morucci, sarebbe una coincidenza che il rapimento avvenga proprio il 16 marzo, ovvero il giorno in cui si votava, si sarebbe votata la fiducia al primo governo del dopoguerra con l'appoggio esterno del Partito Comunista. Un governo disegnato proprio da Moro e che del compromesso storico doveva essere, ed era, il primo passo. E sarebbe sempre secondo Morucci, ripeto, secondo tutto il racconto costruito dalle Brigate Rosse e fatto passare per verità ufficiale, sarebbe una coincidenza anche il fatto che il cadavere di Moro sia stato ritrovato in via Caetani, cioè esattamente a metà strada tra la sede del Partito Comunista e quello della democrazia cristiana. Ora, di nuovo, volendo anche sforzarci a credere alle parole di Morucci, è francamente molto difficile credere a tutte queste coincidenze. Con tutto che, e questa forse è la cosa più importante, osteggiare il compromesso storico per le Brigate Rosse non era semplicemente un interesse, ma ne andava proprio della loro sopravvivenza. E infatti, proviamo a ragionare, se il Partito Comunista si fosse definitivamente, diciamo così, istituzionalizzato, diventando un partito di governo, sarebbe finita quella contrapposizione frontale, quella spaccatura sociale che aveva consentito alle Brigate Rosse di nascere, sopravvivere e contare anche su una vasta e indefinita rete di fiancheggiatori. Detta in maniera più semplice, senza quello scenario che Moro puntava a smantellare, le Brigate Rosse avrebbero cessato di esistere. Anche perché è proprio qui che sta il problema di fondo di tutta questa storia. È qui che sta la chiave del mistero. È proprio qui, nel compromesso storico, che noi dobbiamo cercare e trovare la verità, che ripeto, è assolutamente evidente, su che cosa e quanti interessi si muovono dietro il rapimento di Aldomoro, il suo sequestro e la sua uccisione. Ora, il compromesso storico, e qui bisogna essere un po' noiosi e tornare un attimo indietro, il compromesso storico non era semplicemente un disegno politico, un modo per superare quella profonda crisi economica e sociale in cui era piombato il paese negli anni 70, risolvendo quindi il grande paradosso italiano per cui un partito, ovvero il partito comunista, che rappresentava più di un terzo degli elettori, si vedeva sistematicamente preclusa la possibilità di governare. Era molto più di questo. Il compromesso storico, e per questo ora vedremo il compromesso storico e il disegno politico di Moro fece tremare il mondo intero, era il tentativo di archiviare e mettere una volta per tutte in soffitta, la cosiddetta logica di Yalta. Ovvero, facciamo questo vorticoso passo indietro e andiamo a Yalta, il 4 febbraio del 43, dove si incontrano i capi di Stato di Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna, ovvero Roosevelt, Stalin e Churchill. Seconda guerra mondiale in pieno corso, gli episodi più drammatici devono ancora avvenire, ma è tutto già scritto. Cioè l'alleanza, o meglio la convergenza, diciamo, tra sovietici da una parte e angloamericani dall'altra, ha già sancito che Hitler e i suoi alleati perderanno la guerra. Così a Yalta non si discute di strategie militari, ma del futuro del mondo, di quel mondo che verrà dopo la guerra. Detta in parole ancora più semplici, a Yalta si decide la guerra fredda, vale a dire la spartizione del mondo in due grandi aree di influenza, una americana e una sovietica, dove le due superpotenze eserciteranno controllo politico, economico, sociale, dando vita a un equilibrio internazionale gigantesco, ma che si pensa dovrà essere immutabile e indiscutibile. Ora, questa lezioncina di storia, anche abbastanza noiosa e raffazzonata, cosa c'entra con la storia di Aldo Moro? C'entra tutto, perché è Yalta il vero e unico prologo possibile al caso Moro, e per dirla in maniera estremamente più brutale, è la logica di Yalta ad aver ucciso Aldo Moro, la logica di Yalta a eseguire quella sentenza che lo condanna a morte. Noi sappiamo che durante la guerra fredda, come dire, tutti i paesi sono più o meno assoggettati alle due superpotenze, ma il caso dell'Italia è molto particolare, io direi assolutamente unico, cioè nella guerra fredda l'Italia a suo modo è molto semplicemente il centro del mondo, il punto strategico per eccellenza. È ovvio, c'è la sua posizione geografica, che la rende una frontiera naturale tra l'est e l'ovest, crocevia del Mediterraneo tra l'Europa e Medio Oriente, fondamentale sulla via del petrolio, ma anche perché in Italia appunto, siamo sempre lì, c'è il più grande partito comunista dell'Occidente Atlantico, un gigantesco partito di massa che non ha uguali in Occidente che detiene qualcosa come il 34% dei consensi, stando alle elezioni che c'erano state nel 1976, e sta sfiorando in quegli anni continuamente il sorpasso sulla democrazia cristiana. Ora, questo non deve assolutamente accadere perché un eventuale primato del PCI manderebbe letteralmente all'aria tutti gli equilibri internazionali. Così l'Italia non si trova semplicemente assoggettata agli Stati Uniti, ma è sotto il controllo totale di Washington, che in Italia ha bisogno di basi, appoggi, servizi di intelligence. Possiamo dire che durante tutta la durata della Guerra Fredda non c'è iniziativa del governo italiano che non debba avere l'approvazione americana. Per questo si parla relativamente alla storia dell'Italia di quegli anni di sovranità limitata o di democrazia bloccata. E quindi questo è il compromesso storico, è il progetto con cui Aldo Moro vuole restituire sovranità nazionale all'Italia, con cui Aldo Moro vuole far arrivare l'Italia a una democrazia piena, compiuta, basata sull'alternanza tra democrazia cristiana e parteocomunista. Il progetto con cui Aldo Moro vuole superare la logica di Ialta, ma è anche il progetto che lo condanna inesorabilmente a morte. Noi possiamo capire, credo che sia drammaticamente chiaro, come ostacolare il compromesso storico non fosse un interesse esclusivo delle BR e che Moro in quegli anni fosse diventato il nemico pubblico numero uno di Mezzomondo. Degli Stati Uniti, sicuramente, ma anche di Mosca. Per i sovietici, infatti, la possibilità che un partito comunista potesse andare al governo democraticamente avrebbe significato una catastrofe, cioè l'ammissione che esisteva un'altra via alla presa di potere che non fosse l'insurrezione armata e la dittatura. Torniamo alla nostra versione ufficiale. Ora, i processi, le istituzioni, lo Stato ci raccontano da 40 anni che il sequestro Moro è stato totalmente inatteso, cioè il classico fulmine a ciel sereno. Le Brigate Rosse dicono che ci siamo riusciti per aver giocato tutto sull'effetto sorpresa, nessuno se lo aspettava. Lo Stato gli fa assurdamente eco dicendo che nessuno aveva intercettato una minaccia del genere. E questa è un'altra gigantesca menzogna. Ora, come è possibile che con tutti questi movimenti attorno a Moro i servizi segreti, tutti gli apparati di intelligence non siano riusciti a intercettarne nemmeno mezzo? Poi siamo nel 1978, pieno degli anni di piombo, tensione alle stelle, allerta massima, in Italia ci sono attive qualcosa come 57 sigle armate. Com'è possibile che l'intelligenza italiana non abbia messo minimamente in conto un'azione contro Aldo Moro? Oggi tra l'altro noi sappiamo che il sequestro Moro era tutt'altro che inatteso. Stato, istituzioni, organi di polizia, apparati di intelligence sapevano molto bene come Moro fosse in serio pericolo. E questa non è un'ipotesi, ci sono prove certe, inoppognabili. È provata prima di tutto l'interferenza continua, lunga almeno un decennio della CIA, ma senza arrivare al servizio segreto per quanto riguarda gli Stati Uniti a minacciare Moro ci pensò direttamente il governo, nella persona del segretario di Stato, Henry Kissinger, che nel 1974 rivolse a Moro queste testuali parole. O lei la smette di fare questa cosa, o lei la pagherà cara, veda lei come la vuole intendere. Ovviamente questa cosa di cui parla Kissinger è chiaramente il compromesso storico. Una vera e propria minaccia in stile massonico, con tutto che a farla è Henry Kissinger, sostenitore dichiarato della P2, l'amico di Licio Gelli, sostenitore di Pinochet, l'ideatore della teoria della zona grigia, cioè la necessità di ostacolare l'ingresso di forze progressiste nei governi occidentali tramite azioni sporche, come corruzioni, sequestri, omicidi. Ora, tutte cose che non c'è bisogno di immaginare, di fare congetture, perché le racconta direttamente Kissinger nei suoi diari, e i diari di Kissinger li trovate in tutte le librerie, trovate online, trovate dappertutto, quindi di nuovo l'eccesso di evidenza, la verità che è sempre stata sotto i nostri occhi. Ma non solo, anche da parte sovietica si muove di tutto in questi mesi, risaputo ormai il caso di Sokolov, questo fantomatico borzista che pedinò Moro, ce lo raccontano i suoi assistenti universitari, in particolar Moro il professor Rana, per settimane, tutte le settimane antecedenti al sequestro, questo misterioso studente che pedinava Moro all'interno dell'università La Sapienza, quando poi il rapporto Mitrokin, pubblicato ovviamente dopo la fine della Guerra Fredda, rivela come Sokolov non fosse uno studente, ma una spia del KGB, e quindi proprio volutamente è messa su Moro, che guarda caso Sokolov sparisce misteriosamente nel nulla il giorno prima del sequestro, quindi il 15 marzo del 78. Ma poi sono provate le moltissime segnalazioni che nei mesi precedenti via Fani arrivano ai servizi segreti italiani, di conseguenza al governo. Nel 1998 Guilamo Carlucci, numero 2 dell'antiterrorismo, ammetterà, di nuovo testuali parole, sapevamo che le BR avevano in animo di sequestrare un uomo politico importante. In particolare l'8 febbraio arrivò una segnalazione di fonte palestinese che avvisava della preparazione di via Fani. Il capo dell'antiterrorismo Santillo inviò un appunto al capo della polizia, ma proprio in quel periodo io e Santillo fummo estromessi dal SISDE. Ora, il perché proprio Carlucci e Santillo furono estromessi dal SISDE in quel periodo è a questo punto tragicamente immaginabile. Cosa c'entrano i palestinesi? Perché i propri palestinesi mettono in guardia lo stato italiano sulla sorte di Moro è perché Moro nel 1973 aveva firmato il cosiddetto Lodo Moro, un patto segreto di non belligeranza con l'OLP di Arafat che rendeva l'Italia zona franca, ovvero escludeva l'Italia da possibili attentati terroristici di matrice palestinese. Questo patto faceva di Aldo Moro, un amico della causa palestinese. Ma andiamo avanti, quindi non è assolutamente un fulmine a ciel sereno. Torniamo al racconto raffazzonato di Morucci e degli altri brigatisti. Nella loro versione ufficiale non solo Moro fu scelto casualmente, ma secondo la versione ufficiale i brigatisti che parteciparono all'agguato per quell'operazione si prepararono dal punto di vista militare poco e male. Ora è un altro aspetto assolutamente paradossale e di nuovo nessuna, 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 ripeto, nessuna istituzione né alcuna persona in sede processuale ha osato contraddirli. A leggere loro le posizioni i brigatisti della loro impreparazione militare ne fanno quasi un vanto. Anche a leggere i loro libri, basta leggere quel libro che si chiama Brigate Rosse di Mario Moretti, il prigioniero di Anna Laura Braghetti, eccetera, eccetera, compagna Luna di Barbara Balzerani, ecco loro di questa impreparazione militare ne fanno quasi un vanto. Praticamente nessuno di loro aveva dimestichezza con le armi. Per l'azione di Viafani si esercitarono a sparare giusto un paio di volte e si presentarono all'appuntamento del 16 marzo con armi che risalivano alla Seconda Guerra Mondiale. Ora, di nuovo, sforziamoci di crederci, sforziamoci di credere a Morucci, alle Brigate Rosse, ma è ovvio che siamo di nuovo molto al di là della stranezza, molto al di là del paradosso, ovvero questa organizzazione clandestina, estremamente meticolosa, precisa fino all'ossessione nel suo progetto politico rigidissima nelle regole della segretezza e della compartimentazione che fa, progetta l'attentato più importante della sua storia, quello con cui intende nel suo progetto di stabilizzare il panorama politico italiano senza alcuna preparazione e con armi che sono residuati bellici, ma non solo. Pienamente consapevole della propria inefficienza militare progetta un'operazione così complessa dove occorre agire al contempo con precisione, freddezza e rapidità, dove non esiste alcun margine d'errore, dove oltretutto il bersaglio è in macchina e quindi in movimento, ovvero un'operazione complessa anche per dei professionisti di tiro, viene progettata nella piena consapevolezza della propria inefficienza militare. Un suicidio. Cioè praticamente stando a quanto ci vogliono far credere Morucci e le Brigate Rosse, a quanto ci vuol far credere lo Stato da 40 anni, le Brigate Rosse sono andate in Viafani a suicidarsi e sono riuscite nel loro progetto esclusivamente per buona sorte, perché baciati dalla fortuna. Ma il dato più importante, l'abbiamo detto all'inizio, ovvero io vi ho detto, tenetevelo a mente, è certo come l'azione di Viafani duri appena tre minuti. Quindi, secondo la versione ufficiale, questi guerrieri improvvisati, che non sanno sparare, senza armi degne di questo nome, in appena 180 secondi riescono a fermare la macchina di Moro e quella di Scorta, a uccidere i cinque uomini della Scorza senza che questi riescano a reagire e a prelevare l'ostaggio senza ferirlo minimamente. È ovvio che i conti non tornano, ma i conti non tornano soprattutto nella dinamica di Viafani, così come ci è stata raccontata. Infatti, secondo la versione ufficiale, quella che appunto ci raccontano, sia quella che disegnano, tratteggiano Pece e Savasta, ma che poi completano Morucce e gli altri brigatisti, a prendere parte all'agguato sono dieci brigatisti. Ora, di questi dieci, e qui entriamo nella dinamica di Viafani, nella anatomia della strage, di questi dieci una Rita al Granati ha soltanto il compito di vedetta e quindi non spara. Il suo compito è quello di attraversare la strada con un mazzo di fiori nella parte inferiore di Viafani. Lei si trova in una prospettiva più alta, quindi lei deve vedere l'arrivo della macchina del presidente attraversare la strada per dare il segnale a Mario Moretti, che guida una 127, di immettersi nel traffico davanti a questa macchina. Quindi Rita al Granati svolge il ruolo di vedetta e quindi non spara. Poi ce ne sono due, altri due brigatisti, Casimiri e lo Iacono, che sono armati ma non sparano neppure loro, perché hanno il compito di fare da cancelletto inferiore, cioè bloccare il traffico nella parte inferiore di Viafani. Un'altra brigatista, e siamo a quattro, ovvero Barbara Barzerani, svolge lo stesso compito di cancelletto superiore nella parte alta della strada, proprio all'incrocio con Viastresa. Anche lei è armata ma anche lei non spara. Un altro di questi dieci, Bruno Seghetti, non è nemmeno in Viafani, ma staziona in una stradina laterale con la macchina in cui verrà trasportato Moro dopo il rapimento. Un altro ancora è Mario Moretti, il capo delle Brigate Rosse, che ha il compito di immettersi nel traffico davanti alle auto di Moro e poi di frenare improvvisamente per bloccarle. Nemmeno lui spara. In sostanza i brigatisti sono dieci, ma sono solo quattro quelli che sparano, ovvero Gallinari, Bonisori, Morucci e Fiore, che travestiti da avieri sbucano fuori da una siepe accanto al famigerato Barro Livetti, poi anche del Barro Livetti ne ci torneremo, da una siepe quindi e aprono il fuoco sulle due auto, particolare e importante, disponendosi tutti e quattro sul lato sinistro. Secondo la versione ufficiale raccontata da Morucci, dallo Stato e dai processi, sono disposti esclusivamente sul lato sinistro e sono solo in quattro a scatenare l'inferno in appena tre minuti, in appena 180 secondi. Ok? Allora, anche sforzandoci di credere di nuovo a Morucci e a questa versione, quindi ripetiamo la dinamica ufficiale, Rita al Granati con un mazzo di fiori attraversa la parte inferiore di Via Fani dando il via all'operazione, Moretti che guida una 127 Bianca si immette nel traffico davanti all'auto di scorta e alla Fiat 130 dove viaggia il presidente Moro e poi arrivati in fondo a Via Fani all'incrocio con via Stresa, mentre una brigatista Barbara Balzerani fa da cancelletto superiore e altri due, Casimiri e Loiacono, fanno da cancelletto inferiore, Moretti frena energicamente, imprigiona le due auto e i quattro del commando di fuoco, ripetiamo, Galinari, Bonisoli, Morucci e Fiori, sbucano fuori dalla siepe del bar Olivetti e aprono il fuoco sul lato sinistro sulle due macchine. Ora, dicevo, anche sforzandoci di credere a questa versione, a questa dinamica, ovvero che soltanto quattro brigatisti inesperti e male equipaggiati abbiano neutralizzato cinque agenti di scorta preparatissimi, ricordiamoci che sono la scorta di uno degli uomini politici più importanti del mondo, ma qui anche volendo credere al fatto che questa operazione riesca, esclusivamente grazie alla buona sorte, alla forte motivazione ideologica del commando di fuoco e al fattore sorpresa, i conti continuano a non tornare. Prima di tutto ci sono immediatamente delle grosse contraddizioni dette da Morucci. Allora, prima di tutto il fatto che Morucci racconti come l'ipotesi primaria, il piano originario, sarebbe stato quello di prendere Moro all'interno della chiesa di Santa Chiara, dove tutte le mattine lui andava a pregare. Morucci dice fu scartata perché ci sarebbero voluti almeno 20 brigatisti. Cioè, secondo Morucci, per un obiettivo statico ne servivano 20. Qui, con l'obiettivo in movimento, ne bastano meno della metà. Seconda cosa, la storia del bar Olivetti. Ora, a parte il fatto che, come parleremo nella prossima diretta dedicata al caso Moro, il bar Olivetti è un luogo molto strano, frequentato dalla criminalità organizzata e da persone tutte stranamente legate ai servizi segreti, ma soprattutto non si è mai capito se la mattina del 16 marzo questo bar fosse aperto o chiuso, il che non è proprio un particolare da poco. E la cosa strana è che Morucci, che sarebbe quello nascosto dietro la siepe del bar, non riesce a ricordare se quel bar fosse chiuso o aperto, a parte questa cosa. Ci sono ben altri elementi che non tornano e smentiscono categoricamente la versione che ci raccontano da 40 anni, Stato e BR. Perizie alla mano. Prendiamo le perizie che sono state certificate e ufficializzate dalla seconda commissione parlamentare di inchiesta. Allora, in via Fani vengono recuperati 93 bossoli. Due di questi provengono dalla pistola d'ordinanza dell'agente Iozzino. Attenzione, l'agente Iozzino è l'unico della scorta a tentare senza successo una reazione. Quindi due provengono dalla pistola di Iozzino. Gli altri 91 colpi appartengono al gruppo di fuoco brigatista. Ma attenzione, questo è un dato fondamentale. Di questi 91 colpi, ben 49 sono stati sparati da un'unica arma. Considerando che il caricatore di un mitra, i quattro del commando di fuoco sono dotati di altrettanti mitra, è pari a 32 proiettili, chi è che in via Fani sparò da solo un caricatore in mezzo? Chi è che in via Fani sparò da solo 49 colpi? Non certo i quattro del commando di fuoco. Perché? Sono loro stessi a smentire questa cosa. Lo raccontano loro. Tutti e quattro i loro mitra si inceppano. Tutti. Più o meno a metà caricatore quello di Galinari. Quasi subito quello di Morucci e quello di Bonisoli. Subito quello di Fiore. E le pistole che Galinari e Bonisoli riescono ad afferrare in sostituzione del mitra sparano in tutto la miseria di 12 colpi. A questo punto il ragionamento, più che politico, diventa puramente matematico. Cioè, se il mitra di Galinari spara al massimo, al massimo, 22 colpi, quelli di Morucci e Bonisoli ne sparano pochi, quanti, massimo 10, e quello di Fiore addirittura forse non spara affatto, esiste per forza almeno un quinto uomo. È per forza un quinto uomo che spara da solo ben 49 colpi. Ma non solo, che ha anche la freddezza di cambiare caricatore a metà dell'opera. Che quindi non è affatto un guerriero improvvisato e inesperto, come vogliono far credere le Brigate Rosse, ci sono stati soltanto guerrieri improvvisati e inesperti in Via Fani. Ma è un super professionista di tiro. Un killer freddo e chirurgico. Non ci siamo ancora, perché se la presenza di un quinto uomo, come, ripeto, accerta ormai la seconda commissione parlamentare di inchiesta, è certa, è certa anche la presenza di un sesto uomo. Ancora, riprendo le perizie. Le perizie sul cadavere di Oreste Leonardi, ovvero il caposcorta di Moro, parlano della presenza di nove colpi. Attenzione. Nove colpi con un orientamento da destra a sinistra, cioè esplosi da destra. Mentre, come abbiamo visto prima, i brigatisti sostengono di aver fatto fuoco esclusivamente da sinistra. Colpi esplosi, ci dicono sempre le perizie, con estrema precisione. Di nuovo, un killer freddo e chirurgico, tutt'altro che inesperto. Quindi, è accertata la presenza di un quinto uomo, che ha la freddezza di sparare un caricatore e mezzo e cambiarlo, quindi, a metà dell'operazione, e di un altro killer molto preparato, che spara nove colpi di pistola dal lato destro sul maresciallo Leonardi. Ora, quindi, da qui possiamo già delineare una cosa molto importante, che sicuramente i dieci indicati dalla versione ufficiale, i dieci brigatisti indicati dalla versione ufficiale, quella mattina erano lì in Viafani. Sicuramente avranno avuto parte attiva nell'aguato e nel massacro. Ma è altrettanto sicuro che non c'erano soltanto loro, e che le BR, quella mattina, in Viafani, non erano sole. Oltre al quinto e al sesto uomo, c'erano anche altre persone, altre realtà. Ovvero noi, quando parliamo di Viafani, dobbiamo passare da quell'assunto che hanno provato a farci credere insistentemente per 40 anni che c'erano solo le BR, dobbiamo passare a c'erano anche le BR. Perché lo ripeto, quella mattina Viafani era molto affollata, un affollamento inquietante se pensiamo a quanti e quali poteri avevano interesse a eliminare Moro. Ma, per andare verso la conclusione della nostra chiacchierata, chi c'era quel giorno in Viafani? Anche in questo caso non c'è nessun complottismo, nessun atteggiamento visionario, ci sono le prove, certe e inconfutabili, anche in questo caso provate ed evidenti. prove che poi tra l'altro alcune di queste non sono saltate fuori adesso, dopo 40 anni di oblio, ma immediatamente che sono state a disposizione di tutti subito dopo l'agguato. Quindi, chi c'era in Viafani oltre i 10 BR, oltre questo quinto e sesto uomo? Allora, prima di tutto c'era una macchina, una mini familiare, modello Clubman, estate. Ora, certo, è ovvio, di auto parcheggiate in Viafani ce ne sono tante, ma quella mini è particolarmente importante perché nella dinamica dell'agguato e soprattutto nella sua riuscita la mini è decisiva. Prendete qualunque foto di quei momenti di Viafani, la mini è visibile accanto all'auto guidata da Moretti, accanto all'auto di Scorta e accanto alla Fiat dove viaggiava il presidente Molo. La vedete parcheggiata lateralmente, la mini. Ora, come noi abbiamo già avuto modo di vedere, il piano prevedeva, dopo la segnalazione della vedetta al Granati, che l'auto guidata dal capo delle BR, Mario Moretti, si immettesse davanti all'auto di Scorta e a quella di Moro e che poi, esattamente all'incrocio tra Viafani e Viastresa, frenasse improvvisamente così da costringere le altre due macchine a fermarsi e permettere quindi al commando di aprire il fuoco. Tuttavia, altra cosa importante che smentisce la versione Stato-BR, non è la frenata di Moretti a ingabbiare la macchina di Moro, guidata dall'appuntato Domenico Ricci, non è la brusca frenata di Moretti, perché nonostante l'arresto improvviso, l'auto del Presidente, ma veramente basta vedere, è chiaro, avrebbe potuto comunque liberarsi sterzando a destra, percorrendo qualche metro sul marciapiede e poi andarsene su Viastresa. Una manovra, diciamo così, fattibile, ma che però, per un autista esperto e preparato come Domenico Ricci, sarebbe stata estremamente agevole. infatti è proprio ciò che Ricci tenta di fare. Ricci tenta di fare proprio questo, cerca di sterzare a destra e salire sul marciapiede. Se non ci riesce, è solo ed esclusivamente perché la via di fuga è ostruita proprio da quella mini familiare, parcheggiata proprio a due passi dall'incrocio tra Viafani e Viastresa, parcheggiata proprio nel punto massimo di fuoco dell'azione di Viafani. Una casualità? Oddio. Non proprio. Anzi, per niente. Prima di tutto, c'è da sapere che in quel punto esatto dove c'è la mini, tutti i giorni stazionava fisso il furgone del fioraio del quartiere, tale Antonio Spiriticchio. Ora, secondo la versione ufficiale, due brigatisti, Fiore e Seghetti, per evitare uno inutili spargimenti di sangue, due un testimone molto scomodo, gli avrebbero nottetempo squarciato tutte e quattro le gomme del furgone per impedirgli di raggiungere Viafani. La cosa la conferma lo stesso Spiriticchio, cioè sì, la mattina del 16 marzo non poter recarsi in Viafani a causa della foratura di tutte e quattro le ruote. Però la cosa strana, fin qui tutto normale, ma la cosa strana è un'altra. Cioè, in un piano così meticoloso e progettato al millimetro, possibile che i brigatisti si preoccupino di liberare quel posto dal furgone e non si preoccupino di occuparlo con una loro vettura. Cioè, a loro stesso dire, è il punto focale dell'azione, possibile che non si rendano conto che quel posto vuoto può rappresentare una agevole via di fuga. Ma quanto raccontano? No, loro non si preoccupano. Si preoccupano soltanto di togliere di mezzo il furgone di Spiriticchio. Il resto lo lasciano alla sorte. Quella sorte che, secondo il loro racconto, non fa altro che veramente abbracciarli e baciarli in una maniera incredibile. Quindi un colpo di fortuna è stato il fatto che in quel posto ci finisse la Mini. Il problema qual è? Che quella Mini non è un'auto qualunque. Essendosi trovata nel punto cruciale dell'agguato, essendo stata anch'essa crivellata di colpi e ammaccata dai ripetuti tentativi di fuga di Ricci, la Mini è stata ovviamente sequestrata e analizzata all'istante. Un'analisi che ha rilevato quanto segue. E leggiamo di nuovo dei documenti. Immatricolata due mesi prima della strage e appartenente alla società Poggio alle Rosi. Vale a dire la società che curava tutta l'attività logistica del SISDE ovvero il servizio segreto civile dello Stato italiano. Quindi proprio nel punto cruciale dell'azione esattamente nel posto di solito occupato da un furgone messo fuori uso dai brigatisti la sera prima guarda caso va a parcheggiare un'auto dei servizi segreti dei servizi segreti che si rivela poi essere decisiva in tutta la dinamica del sequestro. È possibile che sia una casualità? È possibile che sia una coincidenza? Con tutto che i servizi segreti non sono presenti solo con la loro mini. Il 16 marzo infatti poco dopo le 9 a strage appena avvenuta transita a piedi lungo via Stresa ad appena due passi dalla strage niente di meno che il colonnello Guido Guglielmi all'epoca ai vertici del sismi il servizio segreto militare il colonnello ha confermato la sua presenza ma facendo una dichiarazione che ha molto più che del del paradosso cioè dice io non mi sono accorto di nulla mi sono trovato lì per puro caso in quanto ero stato invitato a pranzo a casa di un collega il collega D'Ambrosio colonnello D'Ambrosio domiciliato al civico 117 di via Stresa ora il colonnello D'Ambrosio amico provato del colonnello Guido abitava effettivamente al 117 di via Stresa solo che com'è possibile che non sia accorto di nulla che non abbia udito nemmeno uno sparo nemmeno una sirena spiegata e com'è possibile che una persona venga invitata a pranzo alle 9 di mattina ma anche qui nessuna indagine nessun approfondimento ma poi ci sono i testimoni oculari gli abitanti di via Fani che subito dopo la strage raccontano quanto hanno visto 10 testimoni di cui 3 addirittura ritenuti attendibili dalle indagini immediate che raccontano agli inquirenti di aver visto chiaramente due motociclisti armati di mitra a bordo di una onda in particolare un testimone l'ingegner Marini racconta che alcuni colpi sparati dai motociclisti abbiano raggiunto il parabrezza del suo motorino attenzione questi colpi sono stati poi repertati il parabrezza del motorino è stato poi esaminato e questi colpi effettivamente c'erano e bisogna ricordare che il primo messaggio diffuso via radio a tutte le auto di polizia dopo la strage parlava proprio di fermare due motociclisti ma non solo sempre l'ingegner Marini e altri tre testimoni parlano di un uomo in passamontagna dal lato opposto al quello del commando visto nell'atto di aprire il fuoco sul maresciallo Leonardi dettaglio come sappiamo rilevato dalla perizia che abbiamo citato prima che coincide con quanto detto dalla perizia colpi di pistola da un uomo in passamontagna un killer freddo e spietato sparati dal lato destro non solo altri testimoni parlano di uomini che parlavano tedesco anzi di donne che parlavano tedesco presenti in via Fani quella mattina nel bel mezzo dell'agguato e della strage hai bisogno a ricordare che ci sono delle singolari singolari coincidenze tra la dinamica del rapimento Moro e i sequestri organizzati dal gruppo terrorista più efferato e sanguinario dell'allora Germania Ovest ovvero la Raffa insomma Via Fani è affollatissima ma dove sono finite tutte queste testimonianze perché sono state rilevate considerate attendibili e poi nel momento in cui il racconto di Morucci ha dato il via alla costruzione della versione ufficiale sono state dimenticate censurate cancellate chi e che cosa si è voluto coprire allora per rispondere a questa domanda chi e cosa si è voluto coprire e per dare una identità non tanto un nome un cognome un volto ma per dare almeno un'area di provenienza a tutto questo affollamento in Via Fani a tutte queste entità che si muovono in Via Fani è indispensabile lasciare Via Fani è indispensabile andare a vedere che cosa succede subito dopo il sequestro dove noi sappiamo la versione ufficiale ci racconta che l'onorevole Moro fu portato nella prigione del popolo all'interno dell'appartamento di Via Montalcini e qui sarebbe rimasto chiuso per tutti i 55 giorni del sequestro quell'appartamento intestato ad Anna Laura Braghetti che all'epoca era una brigatista irregolare gli irregolari erano quelli che non erano in clandestinità ufficialmente continuavano ad avere una vita normale ma in realtà erano brigatisti a tutti gli effetti quindi in quanto insospettabile gli intestano l'appartamento di Via Montalcini per Via Montalcini e per il quartiere lei è ufficialmente sposata al cosiddetto ingegnere Altobelli che è il nome falso di Germano Maccari militante dell'area dell'autonomia romana che proprio al momento del sequestro Moro si affida alle Brigate Rosse e oltre alla Braghetti e a Maccari nell'appartamento di Via Montalcini sarebbero entrati soltanto Mario Moretti capo delle BR e Prospero Galinari che sono i due leader dell'ala cosiddetta militarista delle BR mentre personaggi come Curcio e Franceschini che in quel momento sono in carcere già da diversi anni rappresentano l'area più ideologica anche questa è tutta una colossale menzogna ovvero Moro non è mai stato portato in Via Montalcini dove ci hanno raccontato che invece è rimasto per tutti i 55 giorni ce l'hanno raccontato per 40 anni la prigione di Moro non è stata una soltanto di prigioni ce ne sono state diverse e dopo l'agguato di Via Fani Moro viene portato a pochi metri di distanza dal luogo dell'agguato del sequestro del massacro dei 5 agenti di scorta in un appartamento molto particolare sito in uno stabile ancora più particolare un condominio molto particolare che ripeto ci può dare molto più che una risposta a queste domande che abbiamo appena fatto chi e cosa si è voluto coprire e quali entità ci sono dietro la Mini parcheggiata nel punto focale dietro il colonnello Guglielmi dietro i tedeschi dietro i motociclisti dell'onda e dietro il quinto e il sesto uomo ma questa direbbe qualcuno è un'altra storia è la storia della prossima diretta dedicata al caso Moro in cui parleremo di Via Montalcini Via Montalcini ovvero la prigione inesistente vi aspetto giovedì con la prossima puntata del caso Moro grazie a tutti per la prossima